Dopo i cinque arresti, nell'ambito delle indagini su presunte tangenti appalti truccati al Petruzzelli, le indagini continuano da parte degli inquirenti e nuovi elementi inquietanti emergono dalle intercettazioni telefoniche compiute dalla Digos. Secondo quanto emerso, per ottenere gratis i biglietti per spettacoli organizzati al Politiama Barese, il direttore amministrativo del teatro, Vito Longo, finito in manette, avrebbe ricevuto telefonicamente minacce velate in cui i suoi interlocutori avrebbero ipotizzato verifiche sulla regolarità della gestione del teatro nel caso in cui non avessero avuto libero l'accesso alle serate. Longo ed alcuni giorni agli arresti domiciliari, assieme a quattro imprenditori, Franco Mele, ex responsabile Luce e Funiere del teatro, Giacomo Delle Noci, Nicola Losito e Vito Armenise, accusati a vario titolo di turbativa d'aste e corruzione. La posizione di chi chiedeva i biglietti e faceva le velate minacce ora al vaglio del pubblico ministero Fabio Bucchicchio, che sta valutando la sussistenza di ipotesi di reato e che non avrebbe finora iscritto nessuno nel registro degli indagati. Prosegue intanto il lavoro degli investigatori e dei consulenti nominati dalla procura sul contenuto di dispositivi elettronici sequestrati durante le perquisizioni alla ricerca di un'eventuale contabilità parallela che possa aiutare a ricostruire con più precisione il giro di tangenti.